Ciao bambini! Questa sera abbiamo un ospite, è la cuginetta di Gigi... è una scimietta! Vediamo cosa ci dice... Ciao! Sono Tremolina, la scimietta birichina! E dove va? Stasera vi racconto la favola, vi racconto la favola, la favola! La favola con Gigi, il mio cuginetto! Ciao bambini! Allora bambini, dopo questa piccola digressione, ecco a voi la nuova favola dei fratelli Grimm. Tremotino, un bacino ad Anna, che è la bambina che me l'ha chiesta. E un bacione grande anche a tutti voi, spero che vi piaccia. C'era una volta un mugnaio molto povero, ma che aveva una bella figlia. Un giorno si trovò a parlare con il re e per darsi importanza gli disse «La mia bambina sa filare la paglia e farne oro». Il re disse allora al mugnaio «è un gran bel talento, se tua figlia è brava a quanto dici, domani portala al castello che la metterò alla prova». Quando la ragazza arrivò, il re la condusse in una stanzetta piena di paglia, le diede aspo e arcolaio ed esclamò «ora mettiti al lavoro, e se entro domani mattina non avrai filato tutta questa paglia facendone oro, morirai». Poi sprangò la stanzina e la ragazza rimase sola. La povera figlia del mugnaio non sapeva proprio dove sbattere la testa. Non aveva idea di come si facesse a filare la paglia e trasformarla in oro, tanto che cominciò ad avere sempre più paura e infine si mise a piangere. D'improvviso la porta si aprì ed entrò un ometto che disse «Buonasera, signorina mugnaia, perché piangi?» «Aimè!» rispose la ragazza. «Devo filare la paglia e farne oro e non so come si fa». E l'ometto continuò. «Che mi dai se lo faccio io?» «La collana!» rispose la ragazza. L'ometto prese la collana, si mise a sedere all'arcolaio e tirò tre volte il filo e il rocchetto era pieno. Poi ne introdusse un altro e tirò tre volte e anche il secondo rocchetto era pieno. E andò avanti fino alla mattina, fin quando la paglia non fu tutta filata e i rocchetti pieni d'oro. Il re arrivò alle prime luci dell'alba e quando vide l'oro fu sorpreso e contento, ma in fondo al cuore sempre più avido di ricchezze. Fece condurre la fila del mugnaio in un'altra stanza molto più grande e piena di paglia e le ordinò di filare anche quella entro la notte se voleva aver salva la vita. La ragazza non sapeva come uscire da quella situazione disperata e piangeva. Quando si aprì di nuovo la porta, comparve l'ometto e disse «Che mi dai se filo la paglia e ne faccio oro?» «L'anello che porto al dito», rispose la ragazza. L'ometto prese l'anello, ricominciò a far frullare l'arcolaio e al mattino la paglia era filata ed era diventata oro zecchino. A quella vista il re rimase estasiato, ma non sentendosi ancora pago, fece condurre la figlia del mugnaio in una stanza ancora più grande, piena di paglia e disse «Deve filarla entro stanotte, se ci riesci sarai mia moglie». «Anche se è solo la figlia di un mugnaio», pensava, «in nessun angolo della terra troverò mai una donna più ricca». Quando la ragazza fu sola, tornò per la terza volta l'ometto e disse «Che mi dai se filo la paglia anche stavolta?» «Non ho più nulla», rispose. «Allora promettimi che quando sarai regina mi darai il primo bambino che ti nascerà». «Chissà come si metteranno le cose», pensò la figlia del mugnaio, senza sapere che pesci prendere neanche in quella situazione disperata, perciò promise all'ometto quello che chiedeva e lui filò anche stavolta la paglia e ne fece oro. Al mattino, quando arrivò il re e trovò che i suoi ordini erano stati eseguiti, sposò la bella mugnaia che divenne regina. Dopo un anno la donna diede alla luce un bel bambino, senza pensare più all'ometto. Questi però si presentò all'improvviso nella sua stanza e disse «Ora dammi quello che hai promesso». La regina si allarmò e gli offrì tutte le ricchezze del regno, a patto che le lasciasse il bambino. Ma l'ometto disse «No, preferisco una cosa viva a tutti i tesori del mondo». Allora la regina cominciò a piangere, a disperarsi a tal punto che l'ometto nebbe pietà. «Ti darò tre giorni», disse. «Se entro quel termine avrai scoperto il mio nome, potrai tenere il bambino». Durante la notte la regina cercò di ricordare tutti i nomi che aveva sentito in vita sua, poi mandò un messaggero in giro per il regno a chiedere quali altri nomi esistessero. Il giorno dopo, quando arrivò l'ometto, la regina cominciò a elencare nomi su nomi, a partire da Gaspare, Melchiorre, Baldassarre, ma lui continuava a dire «Non mi chiamo così». Il secondo giorno andò a chiedere come si chiamava la gente dei paesi vicini e suggerì a l'ometto i nomi più insoliti ed eccentrici. «Ti chiami forse Costoletta?» «Stinco di Montone?» «Cotechino?» Ma lui rispondeva sempre «Non mi chiamo così». Il terzo giorno tornò al messaggero e le disse «Non sono riuscito a trovare altri nomi, ma arrivato alle falde di un'alta montagna, in un angolo del bosco dimenticato da Dio, ho visto una casetta. Davanti alla casetta ardeva un fuoco e intorno al fuoco zompava un ometto quanto ridicolo, saltellava su una gamba sola gridando «Oggi faccio il pane, domani una birra divina e dopo domani prendo il figlio della regina!» «Nessuno lo sa ed è bello bellino che mi chiamo Tremotino!» Potete immaginare la reazione della donna. Fu felicissima di sapere quel nome e quando l'ometto entrò e le chiese «Allora regina, come mi chiamo?» Lei prima ribatte «Ti chiami Corradino?» «No!» «Ti chiami Enrichetto?» «No!» Poi chiese «Ti chiami per caso Tremotino?» «Te l'ha detto il diavolo!» «Te l'ha detto il diavolo!» gridò l'ometto e in preda alla rabbia batte il piede destro con tanta forza in terra che ci si infilò fino alla vita. Poi, al colmo dell'ira, afferrò con le mani il piede sinistro e si spaccò in due. «Buonanotte, bambini! Bisogna essere buoni!» «Marihui, bambini!» «Alevi, bambini!»